Via fascisti-omofobia! Via via fascisti-omofobia! Vergogna! 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 La piazza è piena di persone che stanno cercando di dare un messaggio molto chiaro. È difficile non capirlo! Dovete andare a casa! Dovete andare via! Torino non vi vuole! Torino è pasta di persone che hanno mille orientamenti sexuali, mille idee! Torino non vi vuole! Torino non vi vuole! Torino non vi vuole! Eccoty-omofobia! Torino non vi avanti disse sempre! Torino non vi vuole! Torino non vi shi marav pequeña... Torino non vi vuole! Torino non vi sia! Torino non vi vuole! Ma incoglionite, state a posto! E' ferma! Ma sta a cura, coglione! Prima o poi ti trovi! Silenzio! E' voglia! 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 State a difendere i fascisti! Fai gli occhio che devi uscire prima o poi! E' voglia! Promofobia e odio non è un'opinione! Promofobia e odio non è un'opinione! Promofobia e odio non è un'opinione!